Un saluto affettosissimo a tutto lo staff di Musica in Contatto, sono felice di essere qui. Io mi chiamo Alberto Alvox Lupia. Cosa posso dire della mia storia? Non voglio annoiarvi. Siamo qui? Ci sarà un motivo? Eccoci. Qual è il motivo principale? Allora, innanzitutto è una vita che io faccio musica e nella mia musica ho sempre improntato le tematiche socio-psicologiche perché comunque ho fatto anche l'educatore nella mia vita e ho visto il marcio anche nelle generazioni future alle mie. Ho visto disillusione. Bene, il giullare rientra in questo progetto. È una sorta di Ziggy Stardust che poi alla fine cade giù. Ma adesso si è rialzato grazie a Paco Music Records. Quindi fate largo al giullare perché è ritornato, ma ha dignità, ha rispetto. Grazie a Musica in Contatto, grazie a voi lettori che seguite questa realtà e insomma, ragazzi, per aspera d'astra, ma never stop dreaming perché è un piccolo atto di rivoluzione che sicuramente io, almeno, porterò nel cuore. Ciao! Post-Critum. Novembre ci vediamo con un altro brano e nel 2022 con un nuovo disco.